Ciao ragazzi, Ivano Arley di Vizion Monza per presentarvi un usato veramente speciale. È una Fat Boy Special, 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 special. Guardate solo la verniciatura eseguita da Seventy, Metaflake, con i decori bandiera americana, Skull e Scallop in bella vista. Il tappo serbatoio Skull, il filtro dell'aria aperto Roland Sand, con gli scarichi Vans & Hines, il paramotore Mustac dell'Arley Davidson per viaggiare in relax. Su questo lato la moto monta la monoborsa laterale. C'è stata fatta tutta una lavorazione sui coperchi motore, tutti neri lucidi, anche l'avantreno è completamente nero lucido, il faro anteriore ha led e le leve ricavate dal pieno, sempre Harley Davidson. La motocicletta ha avuto un solo proprietario, il nostro cliente. È una Fat Boy Special 103, 1.690cc, ha percorso 25.000 km, è bellissima, particolarmente a rock'n'roll. Vi è venduta a un prezzo di 17.900 euro, interamente finanziabili. Vi aspetto dalle nostre parti per farvela vedere. Adesso, intanto che lo posso fare, vi faccio ascoltare il rombo delle Mans & Hines. Grazie.